Sembra che la CyberLife abbia fornito un prototipo di androide detective alla polizia di Detroit. Gli assistenti di polizia androide sono operativi danni ormai, ma questo sarebbe il primo caso autorizzato a giocare un volo attivo all'interno di un'indagine criminale. Abbiamo contattato la CyberLife per la nascita. C'è un uomo dove stare fuori di me? Trova il cerchio! Ehi, capito! Ora ecco il che specchio va! Ehi, già! Come stupisci! A quanto vale... Sì. Lo so. Pazzesco, vero? Sì. ...dietro di vincere al pregio. DG. ...di pomeriggio per la casa. Cyber Life. Tutto il pomeriggio per usare il servizio del vostro... ...perfette. ...dietro di vincere al pregio. Permesso, scusi. ...nazione del pub. ...evi un vero che non ci ferma... ...chai combatterelle per venire. ...dicolo. 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 Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.